Juventus Genoa, le formazioni ufficiali della sfida dell'Allianz Stadium Le scelte di Massimiliano Allegri e di Alberto Gilardino in vista del lunch match della 29esima giornata di Serie A L'attesa è finita. Dopo una settimana nella quale la Juventus ha preferito trincerarsi in un silenzio carico di mille parole, è tutto pronto allo Stadium per il fischio d'inizio del lunch match della 29esima giornata del campionato di Serie A La compagine di Massimiliano Allegri affronta un Genoa che già nel match dell'andata ha dimostrato di poter mettere in grave difficoltà Vlaovic e compagni Il tecnico Livornese riparte proprio dal suo numero 9 per rilanciare le ambizioni di una squadra che sembra la lontana parente di quella ammirata nella prima parte della stagione Al fianco di Vlaovic, che ritorna dalla squalifica, agirà Federico Chiesa, a segno contro il Napoli e autore di un'ottima prestazione anche contro l'Atalanta La novità più rilevante, però, la si riscontra in mediana. Rabiot, infatti, parte inizialmente dalla panchina, al suo posto giocherà dal primo minuto Miretti Ecco le scelte complete di Allegri. Juventus, 3-5-2, Scesni, Gatti, Brenner, Danilo, Cambiaso, Mecheni, Locatelli, Miretti, Kostic, Chiesa, Vlaovic Ecco le scelte.